Alla luce di quello che è successo all'Aquila, all'Asra, non so se lo sapete, l'attacco hacker, voi siete stati hackerate oppure avete paura dei pirati informatici? Beh certo, i pirati informatici sono una bruttissima realtà che abbiamo. Sì, un po' di timore ci sta. Io lo stesso, non sono nei social, quindi penso di rischiare il meno possibile. Avete paura di essere hackerati? No, no, niente paura, niente, paura, zero. Ma lei sa chi sono gli hacker? Non lo so e non lo voglio neanche sapere. Lei il computer non lo usa? No. Telefonino? Appena, gli ha detto, non dice io, non gli ha detto il bambino della monnezza. Il peccato è i bambini che hanno il telefonino ore e ore e ore. Per esempio, gli arriva una mail sconosciuta, l'apro? Non lo apro, non lo apro. Avete paura dei pirati informatici? Un po' sì. Aspetta hacker, sì lo so, però non... In questo momento l'hacker chi è? Un virus? Chi è un virus? Diciamo che sono attacchi informatici, dei pirati informatici. No, ma io non mi intendo queste cose. Ho il telefonino, ma la pena riesco a fare il numero. Attenzione al telefonino, però, e messaggi, eh? Era fino a chi ha probato al fiume, buonanotte. Di cosa parliamo? Hacker, pirati informatici. Ah sì, non so, navigo poco e vado poco su internet. Hacker chi è? Hacker. Pirati informatici. Non ne so, non ne so, non ne capisco. Lei non ha sentito la notizia dell'Astra e dell'Aquila sotto attacco di questi hacker? Ah sì, 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 quello sì, quello sì, quello sì, perché non sapevo come chiamarlo. Vabbè, sto attenta ai vari siti e poi sto comunque attenta quando mi si apre qualche pagina, magari cerco di chiuderla e bloccarla. Navigare esclusivamente su siti sicuri e quindi non andare magari in quei siti dove ci sono quelle avvertenze che appunto ti avvertono della presenza di possibili hacker. No, noi col telefono facciamo qualche, solo chiamate. E ma attenzione, perché c'è il phishing? Sarebbe. Adesso ve lo spiega il nostro operatore. Sarebbe quando entrano sul conto tramite i dati bancari che magari si possono avere sul telefono. Noi forse perché abbiamo una certa età, quindi prima di dare qualcosa, di rispondere, lo sì, ne esiste mai. Lei utilizza computer, telefonini eccetera? No, no, no. Preferisce il vecchio stile? Brava, brava. Hacker? Hacker? Niente. Ma lei sa cosa sono gli hacker? Non lo sai che non lo sapete.